Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Oseinaba 295x208. Questi tappeti sono annodati nella città di Oseinaba e nelle sue vicinanze, nella Persia nord-occidentale. Il disegno dei tappeti è spesso del cosiddetto tipo erati, ispirato agli antichi tappeti farahana. Questi tappeti, spessi e resistenti, fanno parte del gruppo dei tappeti di Amadana. Lavorazione, annodato a mano, spessore circa 9 mm, pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.